weee non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone da yeee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 5 hide and seek in inglese nascondino in italiano molto molto semplice dobbiamo semplicemente trovare la lettera i della parola fortnite dove si trova come vedete siamo nella fattoria e dobbiamo raggiungere esattamente questo granaio il granaio rosso con il tetto bianco adesso mi ammazzeranno ma non è un problema l'importante è raggiungere il soppalco dove c'è la finestra dall'altra parte vediamo se questo riesce a non ammazzarmi ovviamente mi ammazza salendo comunque questa scala e arrivando esattamente dove lui troverete la lettera i quindi semplicissima questa sfida io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie per la visione!